La provincia è al centro di un percorso di grande trasformazione, una trasformazione che la sta portando ad essere una sorta di grande app a disposizione dei propri comuni. Dentro questo percorso, che è anche un percorso di cambiamento, utilizziamo quindi la giornata della trasparenza per mettere a disposizione in tutti gli stakeholder pubblici e privati una quantità di informazioni molto utile e anche molto interessante. In particolare forniremo molti dati sul tema delle scuole, della riabilità, dei trasporti, dei parchi, flussi turistici, per cui siamo interessati e tutto ciò sarà ovviamente disponibile su una nostra sezione, un sistema open data, secondo gli schemi dell'agenda digitale regionale. Tutto questo rappresenterà quindi un'occasione molto importante per conoscere meglio il territorio e per poterlo fare sarà anche possibile utilizzare i social network dove potete trovarci. Quindi una buona giornata legata alla trasparenza per tutti voi.